In questo modo la squadra può contare su una compagine robusta che può dare delle grandi prospettive e quindi i nostri atleti possono giocare, spero, con tranquillità verso i traguardi più ambiziosi. Per lo stadio ha detto meglio se viene fatto tutto dai privati. Voglio ben vedere, con i chiari di luna che ci sono sui bilanci pubblici non è che ci sia tanto da stare allegri, perciò se il privato dovesse proporsi a realizzare l'investimento tutto con le proprie forze saremo ben felici, naturalmente regolamenteremo i rapporti anche in funzione di una tutela pubblica dell'investimento. Come si è pensato di comprare l'investimento? Allora, poi domandiamoci a domanda, come vi siete uccidati solo a Venecia? Come si è venuto a Venecia? Perchè questo è Venecia? Ma perché è Venecia? Perché è Venecia e la squadra della città di Venecia? Ma se è seriosamente, c'erano delle proposte anche dalle altre squadre, delle diverse categorie. E io invece sono interessata a un progetto che si possa iniziare, se non da zero, dalle cose basse per poter crescere. Perché tutte le glorie e tutti i nostri errori siano i nostri, non è che prendi una cosa già fatta. C'è la possibilità di raccogliere una squadra di collaboratori, cioè di quelli che pensano allo stesso modo, che per risolvere i nostri progetti che ci siamo posti, insomma, per raggiungere gli obiettivi. Dovremmo aspettare gli obiettivi russi? Dice, noi dovremmo aspettare gli obiettivi russi. Ma avete delle richieste molto rigide della federazione, quindi non è detto. Io credo che dovremmo aspettare gli obiettivi in prossimi anni, quindi crescere i ragazzi, quindi quelli saranno la squadra futura. Poveremmo, che uno dei primi passi, che noi dovremmo fare, sono investimenti in l'academia di calcistica giovanile. Noi vediamo come un progetto internazionale, russi e italiani. C'è lo stadio che progetteremo, lo stadio che progetteremo? Noi, sarà uno tra i migliori veramente a livello europeo e sarà, diciamo, come una carta di visita anche di Venezia. Cioè, quello stadio che c'è è la storia. Noi forse dobbiamo scrivere un'altra storia. Tempi per la costruzione dello stadio, secondo le vostre aspettative, quando potrebbero esserci? Vremmo, cioè, come si prevedevi per la costruzione di stadio, per esempio, per il vostro spazio? Sono un vero. Dice, io sono superstizioso, quindi non dico in anticipo. Siamo interessati, quindi la domanda per la cessione dei lavori la faremo anche nei prossimi giorni. Lei ha visto qualche partita? E questo зависит non solo da noi. E dipende comunque non solo da noi. Il vostro spazio, avete visto qualche match? Da. Sì. Il fatto che costerà molto. Dal punto di vista economico, in quanti anni pensate di arrivare al pareggio? Il vostro spazio, in quanto riguarda voi pensate che potete raffreddere? Io so che ho capito. Fare play? Fare play? S'economico, in quanto riguarda stagioni, cioè quello che si tracete e per quanto si tracete e per quanto si tracete? se si tracete 5-7 anni, ci saranno 5-6 anni, ci saranno 5-6 anni, ci saranno 5-6 anni comunque è un progetto a lungo termine e anche sono investizioni, cioè finanziamenti a lungo termine non si possono dire i termini, non si può fare veloce ma vogliamo fare un progetto che sia un'economica base del club e di Junosca Accademia comunque il progetto che vogliamo fare sarà anche la base economica per la squadra cioè per mantenere, perché renda, capito, per mantenere la squadra il calcio deve vivere, sì il free play al giorno d'oggi è un mercato che è in difficoltà per quanto riguarda le campanze, che hai creato, ci saranno 5-6 anni, ci saranno 5-6 anni io vorrei che questo progetto fosse un progetto internazionale anzi, come ho già detto, io vorrei che questo fosse un progetto internazionale però dai diversi paesi non parliamo adesso dei giocatori, parliamo dell'amministrazione perché quello che garantisce il successo è proprio la gestione giusta e questo comunque mettere una struttura in piedi, una struttura amministrativa in piedi neanche questo si fa veloce allora, per quanto riguarda il contatto con l'amministrazione com'è che c'è stato? è venuto a Venezia, ha parlato con Venturini cioè come c'è stato il primo contatto con l'amministrazione? come è stato fatto, come è stato fatto? 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 hai venuto a Venezia? sì, è venuto a Venezia è venuto a Venezia, non c'è più nulla è venuto a Venezia, è venuto il primo contatto non c'è il futbolico club però non sono venuto per comprare la squadra per magari qualche palazzo a Venezia sul Canal Grande potete essere venuto a comprare qualche palazzo a Venezia sul Canal Grande non c'è non c'è non, non c'è comunque da oggi inizia ufficialmente la sua era, la sua epoca i primi passi che farà, quali saranno? quindi oggi inizia ufficialmente la sua era di spiegare? quali saranno i primi passi? molto, molto prosaiche è una pagina ci sono le cose che sembra ridicole ma sono basi ci sarà lo stipendio c'è lo stipendio all'alienatore dei giovanili l'incontro con la squadra l'incontro con la squadra l'impostazione delle obiettive fino alla fine della stagione dobbiamo dare la possibilità a tutti a farsi vedere da oggi tutti nella squadra hanno le condizioni uguali e anche per la squadra ci si userà il principio sportivo cioè vinca il migliore